Robert Capa è considerato uno dei grandi maestri della fotografia del Novecento, lo sappiamo tutti, il grande fotografo dei reportage di guerra, le sue immagini sono diventate dei simboli, delle icone, anche e soprattutto quelle relative alla guerra, contro tutte le guerre e tutte le violenze. Ebbene, proprio a Robert Capa è dedicata la prossima mostra che si inaugura al Museo Diocesano di Milano, il 14 maggio e poi resterà aperta per tutta l'estate fino a ottobre. Ancora una volta i chiostri di Santo Storgio a Milano si propongono proprio come spazio d'elezione per la grande fotografia del Novecento. Robert Capa non ha proprio bisogno di presentazioni, forse però non tutti sanno che è di origine ungherese, è nato in Ungheria nel 1913 e il suo nome non era Robert Capa, si chiamava Andre Friedman, era di famiglia ebraica, altoborghese, il padre era un sarto rinomato a Budapest, irrequieto, come tanti giovani, ha lasciato l'Ungheria che non aveva ancora 18 anni, è andato a Berlino dove ha studiato giornalismo e ha cominciato proprio a fotografare, facendosi ben apprezzare, ben conoscere. Con l'ascesa del nazismo si trasferisce a Parigi e l'attività proprio di fotogiornalista diventa la sua professione, giovanissimo. È la sua compagna, Gerda Taro, che si inventa proprio questo nome d'arte, Robert Capa, perché ha un suono internazionale e facile da pronunciare in tutte le lingue e in effetti è proprio una grande trovata. I due insieme partono per la Spagna dove c'è la guerra civile, documentano quella guerra dalla parte antifascista. Sono foto eccezionali, basta ricordare la morte del miliziano repubblicano, che è una foto anche studiata ancora oggi, anche perché ci si chiede se è stata scattata proprio così dal vero, oppure è una foto studiata, in qualche modo costruita, ma resta il fatto che è una forza di una potenza espressiva straordinaria. Lì in Spagna muore proprio la sua compagna Gerda e a questo punto Robert Capa si trasferisce negli Stati Uniti, ma allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, eccolo tornare in Europa per seguire proprio l'esercito americano. Le sue foto degli americani che risalgono la penisola sono qualcosa di eccezionale, come reportage, e ancora più impressionanti sono le foto che riesce a scattare nel D-Day, nello sbarco in Normandia, scatti eccezionali, fatti proprio in prima linea, nella concitazione della battaglia. Insomma, Robert Capa è stato veramente un personaggio eccezionale, anche di una grande empatia, proprio estroverso, capace di ammaliare, e ce lo dicono i ritratti che lui ha fatto ai personaggi più famosi dell'epoca, da Hemingway a Picasso, anche a Ingrid Bergman, con la quale ha avuto proprio una storia d'amore. E poi, attento a tutelare il suo lavoro, è anche quello degli altri fotografi che collaborano a riviste, giornali, fonda subito, nell'immediato dopoguerra, l'agenzia Magnum Photo, che diventa una delle più prestigiose agenzie fotografiche, ancora oggi in attività. Muore nel 1954, nel maggio del 1954, in Indocina, dove si trovava per coprire anche quegli eventi di guerra. Salta in aria su una mina. È un destino forse non così strano per chi era sempre in prima linea, per chi era sempre al fronte, proprio in faccia alle battaglie. Ma è particolare che lui agli amici ricordava, tutti dicono che sono un grande fotografo di guerra, ma io sogno di essere un fotografo di pace.